Bene, buongiorno a tutti e benvenuti anche in questo video. Ho riflettuto molto prima di fare questo video. L'argomento è il riciclo delle batterie a litio per automotive o agli ioni di litio. Procedimento basilare per le auto elettriche, perché se non ricicliamo le batterie si contaminerebbe al punto da mettere in dubbio il vantaggio del passaggio alle auto elettriche. Abbiamo sentito tutti gli scienziati e i divulgatori che ci illustrano questo procedimento e ne riceviamo un'impressione solida, semplice e sicura. E in effetti lo è, almeno in laboratorio. Ma cosa succede quando si passa dal laboratorio alla realtà industriale? È davvero così scontato che sia semplice, sicuro ed economicamente remunerativo? Per capirlo ci appoggeremo allo studio svolto da una delle università tedesche più prestigiose. È importante questo aspetto in ogni nuova tecnologia, perché fa la differenza tra ipotesi di laboratorio e realtà industriale. Quindi seguitemi, questa volta ve lo chiedo fino alla fine. E avrete un punto di vista, ma oltretutto da applicare anche ad altri argomenti, molto più realistico ogni volta che vi si presenterà un qualsiasi nuovo miracolo tecnologico, un piccolo mucchio di terra. Questo rimane di una batteria. Cobalto, nighel, manganese e litio sono qui. E l'idea è quella di trasformare queste materie prime in una nuova batteria. Le aziende promettono di poterlo fare, recuperando oltre il 90% dei materiali, dalle vecchie batterie degli ioni di litio e riciclandoli in nuove batterie. E questa è un'ottima notizia, perché abbiamo sempre più auto elettriche che scendono in strada, quindi abbiamo bisogno di sempre più batterie e per quelle abbiamo bisogno di sempre più risorse. E riciclare è meglio che estrarre nuovi materiali e poi buttarli via. Ma come funziona esattamente su larga scala? Per scoprirlo, inizialmente speravamo di filmare con un'azienda di riciclaggio delle batterie in Europa, ma a parte il rischio di filmati promozionali, l'industria sembra piuttosto riservata. Per fortuna le università sono molto più aperte, motivo per cui ci atterremo alla ricerca della Klaustal University of Technology di Zerfild, Germania, Università d'Elite, nello specifico settore tecnologico. Qui l'attenzione è rivolta al recupero dei metalli, la soluzione perfetta per noi. Ma prima ti darò una rapica carrellata di come le batterie di un'auto si trasformano in un piccolo pezzo di terra. Ci sono diversi modi, ma tritare tutto è uno di quelli. Innanzitutto la batteria arriva in un impianto di riciclaggio e viene scaricata, dopodiché si smonta. Questo viene fatto a mano, il che significa che è costoso. Ma ci arriveremo più tardi. La batteria viene quindi distrutta. Le parti liquide vengono estratte e diversi metodi di macinazione e sesacciatura ci lasciano con questi materiali di base. Metalli dell'alloggiamento della batteria, plastica, un po' di alluminio e rame. Ma le cose che tutti vogliano sono queste. Il Marte Nero, questo contiene tutti i materiali preziosi come litio, cobalto, nickel e manganese. Ma contiene anche grafite, per questo è il Nero. E ora capiremo come si estraggano questi materiali. L'università fa parte di un gruppo di ricerca più ampio che sta cercando di capire come riciclare le batterie all'ionio di litio in modo remunerativo e su scala più ampia. E questo è l'obiettivo finale di questo procedimento. La lamita metallica sottile è pronta per essere rimessa in batteria. Quindi cosa stiamo facendo ora per il Marte Nero? Ora stiamo entrando nell'operazione di liscivizzazione del Nero di Marte. Stiamo parlando, stiamo portando in soluzione tutti i metalli preziosi che abbiamo nel Marte Nero. Il metallo che stiamo cercando oggi è il cobalto. Per far emergere questo concetto si usa l'acido solfurico come solvente. Roba piuttosto brutta. Se toccasse la nostra pelle causerebbe immediatamente gravi ustioni. Si utilizza un progetto di riciclaggio chiamato idrometallurgico. Si tratta di un processo a bassa temperatura che utilizza solo piccole quantità di energie rispetto ad altri metodi di riciclaggio delle batterie. I fumi di acido solfurico sono altamente tossici. Ma l'intero processo è perfetto per evitare delle impurità che sono ancora nel Nero di Marte dopo tutta la triturazione e la sesaggiatura. Principalmente sono residui di alluminio e rame. Come secondo passo anche il Nero Marte viene filtrato. Durante l'intero processo di riciclaggio sono in grado di rimuovere il 95% delle impurità. Su una scala un po' più grande l'intero processo assomiglia a questo. Enormi vasi di solvente in cui viene lavorato il Marte Nero. Quindi da quello che stiamo vedendo qui i gas che scaricano sembrano essere un po' un problema. Con cosa abbiamo a che fare? Stiamo riscontrando un piccolo problema con questo. A seconda dell'acido con cui stai lisciviando, ad esempio l'acido solfurico, potresti avere una certa evoluzione di H2S. Forse anche un po' di formazione di HF. Questo è un problema e sicuramente qualcosa che devi provare quando stai andando verso l'upscaling. Abbiamo anche gli acidi, i solventi e cose del genere, il che non è nemmeno un bene per l'ambiente. C'è un modo per affrontare la questione in modo diverso? Attualmente sono in corso ricerche per acidi organici, per acidi più verdi, che sono anche molto biocompatibili con l'ambiente. Quindi normalmente sono abbastanza innocui, ma la ricerca non è in un certo senso ad uno stadio così avanzato come si potrebbe pensare. E se non lavori con cautela, tiri fuori poi sui giornali titoli come questo. La fabbrica di Sunger in Ungheria ha registrato alti livelli di cancro, che causano metalli pesanti nell'aria e aveva difficoltà a filtrare i gas di scarico. Ciao ciao benefici dal riciclaggio. Ci sono così tante cose da considerare e non siamo nemmeno a metà strada. La nostra massa nera viene ora aggiunta a un altro solvente, che aiuterà a far risaltare il cobalto in questo cocktail chimico. Ed è piuttosto colorato, dal verdastro al blu scuro. È così blu che sembra quasi inchiostro. Ed è questa parte blu scuro alla quale si attacca il cobalto. Per ottenere una maggiore concentrazione di cobalto, dobbiamo fare un altro giro di questo. Questa volta passiamo dal blu al rosso. Questo è un cambiamento di colore. Quindi ora il cobalto si trova nelle parti rossastre più scure. Ma per poter utilizzare il metallo nelle nuove batterie è ovviamente necessario estrarlo dal solvente. Puoi farlo riscaldandolo come faresti su scala industriale o un po' più velocemente in un piccolo laboratorio con un altro solvente. I cristalli si vedono molto meglio, si sono persino accumulati sul fondo. Ad esempio, quanto cobalto c'è ora nella massa nera qui dentro? Ebbene, in realtà con questa tecnica siamo in grado di recuperare più del 99% del cobalto. Quali sono le maggior sfide nell'app scanning di questi processi? Cosa lo rende così difficile? Naturalmente qui ci imbattiamo anche nel problema che sull'arga scala di laboratorio lo stiamo facendo solo in esperimenti in bacche. Quindi passo dopo passo molto calmo e costante. Ma nell'industria si vuole guadagnare denaro. Quindi si ha un processo continuo. E gestire un processo continuo con tutte le impurità e le fasi del processo e le piccole cose che devi considerare è un po' più impegnativo. Questo è quello che dicano moltissimi ricercatori che è sempre possibile ricavare oltre il 90% del materiale. Ma questo richiede condizioni ottimali che non sempre si trovano nel mondo reale. Se i tassi di cobalto recuperato diminuiscano, il business case diventa ancora più difficile. Ed è a questo che si riduce il riciclaggio. Una cosa è farlo funzionare tecnologicamente, una cosa completamente diversa è fare soldi con esso. Ed è qui che lo specifico settore industriale deve affrontare le sue sfide più grandi. Ricordate quando ho detto che le batterie devono essere smontate a mano? Questo perché ogni produttore le costruisce in modo un po' diverso. Ciò significa che le macchine non sono attualmente in grado di svolgere tutto il lavoro e questo fa aumentare i costi. Lo stesso vale per la parte più costosa del processo, il riciclaggio idrometallurgico. E c'è un altro fattore che rende difficile realizzare un profitto. La parte più difficile deriva dalla volatilità del mercato. Perché nel mercato dei metalli c'è molta speculazione. E se si vendono ad esempio i prezzi del litio, quest'anno hanno appena aperto il loro prototipo di impianto di raffinazione di massa nera in Germania. La volatilità del mercato è uno stress per tutti coloro che si preoccupano che reciclano. In questo momento i prezzi sono piuttosto bassi. Il che rappresenta una sfida, un ostacolo per tutti coloro che vogliono cercare investimenti. Fondamentalmente se i prezzi sono alti, i riciclatori guadagnano di più. Ma la domanda è quanto? La consulenza per McKenzie prevede che i riciclatori guadagneranno da 800 a 1600 dollari per tonnellata di batteria riciclata. Si tratta davvero di quanto paghi quando acquisti il materiale. La fonte è Hans-Erik Mellon, che è un'agenzia. Da anni analizza il mercato delle batterie a fine vita. Quindi se ottieni materiale gratuitamente e poi lo lavori e lo vendi al prezzo di mercato, di solito guadagnerai un sacco di soldi. Molto probabilmente farai molte più operazioni di mining. Ma se i riciclatori dovessero pagare per le batterie, l'economia si farebbe traballante. Questo potrebbe significare che il riciclaggio diverrebbe più costoso della semplice estrazione di nuovi materiali. E questo non è l'unico problema per una pianta di dimensioni commerciali. Un'altra sfida sono i materiali utilizzati nella batteria stessa. Potrebbe trattarsi di un sacco di combinazioni. Litio-ferro-sosfato, litio-manganese-ossido, litio-nitel-nichel-cobalto-alluminio o litio-nichel-manganese-cobalto. E l'ultimo è disponibile anche in varie combinazioni. Ed è il selvaggio West là fuori quando si tratta di produzione di batterie, il che rende più difficile la costruzione di impianti commerciali su misura. Devi costruirli per la maggior quantità possibile di ogni singolo materiale, come il nickel, nickel alto, 8.1, 1, ad esempio. In rapporto con gli altri componenti devi avere un separatore di nickel davvero enorme, mentre se hai 1, 1, 1, devi essere in grado di far partecipare, precipitare molto cobalto. Quindi devi avere, a parte, anche un enorme separatore di cobalto. Bisogna essere abbastanza robusti e attrezzati e questo ovviamente sta influenzando i costi. Il che significa che alcuni analizzatori di alcune università che prevedano il costo dei fogli di flusso sono completamente sbagliati perché potrebbero andare in una posizione ottimale. La linea di fondo è che nel mondo reale il riciclaggio è molto, molto più difficile che sulla carta. Un altro problema per il riciclaggio delle batterie non ha nulla a che fare con il processo di riciclaggio in sé, ma con la materia prima mancante. Le batterie nelle auto durano più a lungo di quanto si pensava in precedenza, dopodiché vengono utilizzate per tutti gli altri tipi di cose, come lo stoccaggio di energia rinnovabile, il che significa che non ci sono tante batterie da riciclare. Su scala di laboratorio il riciclaggio delle batterie non è affatto un problema, 99% di cobalto recuperato, insano. Ma su scala commerciale non ci sono molte informazioni, ad esempio come faremo con i sottoprodotti nocivi, quindi ci sono alcune domande a cui bisogna ancora dare risposte. Io fino a qui spero di avervi reso partecipi. Dei molti dubbi che ogni volta che sento qualche ricercatore presentare una soluzione come semplice scontata, quando in effetti non lo è, ciò potrebbe significare che il riciclaggio non è così reale e scontato come ce lo vogliano vendere. E questo vale un po' per tutte le nuove tecnologie. Per questa ragione, quando nei commenti voi mi sottolineate e datevi scontato alcune cose, io faccio sempre un passo indietro, perché ho lavorato una vita nel mondo dell'energia a livelli planetari e mi rendo conto che c'è una grossa differenza dal mondo della ricerca poi alla scala industriale. Ecco, volevo darvi questa visione dell'industria. Ho usato le batterie come esempio, ma volevo che voi aveste questa capacità di valutare poi la realizzazione vera delle varie tecnologie che vengano fuori giorno per giorno. Detto questo vi saluto e vi rimando al prossimo video. Arrivederci a tutti.